Ciao ragazzi, bentornati sul canale e bentornati su War Thunder Come avrete letto dal titolo, oggi andremo a vedere l'aggiornamento alla 1.91 Night Vision Vediamo subito tutte le unità che sono state aggiunte Non entrerò nel dettaglio della 1.91 con tutti i bug risolti, le cose fixate, gli aggiustamenti impercettibili Andremo a vedere come di consueto, chi mi segue lo sa, per l'appunto le unità che sono state aggiunte Iniziamo con l'esercito americano, andiamo a vedere che abbiamo, molto rapidamente sarà una cosa rapidissima Perché le unità sono tante e il tempo è poco, elicotteri non è stato aggiunto nulla Iniziamo con il dire che abbiamo il nuovissimo, i nuovissimi F89D e B Sono praticamente dei caccia a reazione premium che possono portare dei cannoni da 20 Come vedete non abbiamo delle armi secondarie, perlomeno per quanto riguarda il modello B Abbiamo poi l'F4C, questo qui ragazzi penso che diventerà uno dei miei caccia Non dico preferiti perché è molto difficile, però molto interessanti perché vanno ad avere Questo insieme ad altri, una nuova velocità e un nuovo concetto di giocata su War Thunder Perché può raggiungere la velocità massima incredibile di 2220 km orario Ovviamente tra l'altro il jet non è sbloccato Possiamo portare con noi come vedete armi secondarie, la scelta è molto vasta Però fate attenzione perché ovviamente potete scegliere una sola cosa, non tutto quanto Per quanto riguarda la marina abbiamo rapidamente il 466, questo caccia sommergibili E già questo sommergibili mi fa pensare a un futuro aggiornamento Perché secondo me arriveranno i sottomarini su War Thunder, non so quando ma arriveranno Abbiamo poi l'Atlanta che abbiamo imparato a conoscere anche su altri giochi Abbiamo i cannoni da 127 con una cadenza di fuoco molto molto elevata Rapidamente passiamo alla Germania che propone per quanto riguarda la marina Abbiamo il 1939 questo cacciatore torpediniere, abbiamo cannoni da 105, eccolo qui Abbiamo poi l'incrociatore Hepper che abbiamo conosciuto eccetera eccetera Come vedete abbiamo dei cannoni da 203, ecco qui la nave Andiamo avanti con l'aeronautica, stiamo andando al contrario in realtà Vediamo subito, spero che non vada a saltare nulla perché è molto importante vedere tutte le unità E' stato aggiunto il G91 R3 subito dopo il famosissimo 229 Mi viene anche da ridere perché ho pensato una cosa Eccolo qui Il nostro G91 Continuiamo con gli elicotteri Abbiamo il 665 Tiger Esteticamente a me gli elicotteri mi piacciono molto Però non mi hanno preso a tal punto da dire oggi vado su War Thunder e sblocco gli elicotteri No, rimango fedele ai miei caccia ad elica oppure ai carri armati Abbiamo poi il Premium 24P Eccolo qui Con questi colori molto carini ma nulla di eccezionale Ci sono elicotteri molto più belli Esercito Andiamo a vedere cosa propone Abbiamo il Lost Wind 2 Praticamente c'è stato un piccolo rework No rework Un piccolo Una ristrutturazione interna del ramo tedesco Mettiamola così Abbiamo l'antiaerea Eccola qui Vediamola rapidamente con il cannone Con due cannoni da 37 Abbiamo poi L'M48 Ecco qui che è stato aggiunto Il nostro carro Molto brutto La serie M48 non mi piace per nulla Poi infatti portano al KPZ Che una volta era buono Non è stato aggiunto più nulla È stato levato il mouse Se vedo bene Dovrebbe Essere stato levato Però Questa è un'altra storia Continuiamo con Il ramo sovietico Andiamo a vedere che Per quanto riguarda i carri armati È stato aggiunto Fatemi vedere bene Abbiamo l'Object 685 Abbiamo un cannone da 100 Una velocità di 70 km orari Nulla di particolare Perché questo qui è un ramo Che non mi ha mai preso Preferisco di gran lunga Arrivare al T-80 Abbiamo elicotteri Nulla di nuovo Fortunatamente così Non perdiamo tempo Per quanto riguarda Gli aerei Abbiamo un bel nulla No Vi piacerebbe Invece abbiamo Il MIG-17AS Che è praticamente Un jet premium Eccolo qui Con il famoso cannone da 37 E i due cannoni da 23 Abbiamo poi Aprite bene le orecchie Il MIG-21F13 L'ho già messo Nel mirino Perché intendo sbloccarlo Il prima possibile Velocità massima 2190 Abbiamo un armamento Composto da un solo cannone E 60 munizioni Potrebbe essere un problema Però è compensato Da un'ottima velocità Da quello che ho detto Poi ovviamente Bisognerà testarlo Abbiamo La possibilità di portare Fino a due soli Missili Quindi Diciamo che mantiene Questa Questa cosa Rispetto al MIG-19 Sempre due missili In Diciamo In opposizione Agli americani Che ne possono portare Fino a quattro Abbiamo poi Il 1204 Che è praticamente Che cos'è questa cosa qui È una Volete comprare Veramente Questo qui Buona fortuna Comunque il cannone È molto interessante Da 76 Potrebbe essere Davvero Incredibile Abbiamo poi La Chapaev L'incrociatore Abbiamo cannoni Da 152 Finalmente Su War Thunder Si iniziano a vedere Quelle famose Navi grandi Che tutti Volevano vedere Fin dall'inizio Secondo me L'aggiunta Iniziale Per l'appunto Di questi Motoscafi Queste cose qui Sono partiti male Sono partiti malissimo Sono navi che io Personalmente Attenzione Parla Devi Non parlo per tutti Le andrei ad eliminare Tutte quanti E parterei Con un ramo Cacciatore Per incrociatore Un pochino Per diciamo Copiare In grande stile Mettiamola così Gran Bretagna Abbiamo l'MGB Questo Questa moto Cannoniera Perché devo mostrare La moto Ma io posso mostrare Su un canale Quest Andiamo avanti Andiamo avanti Veramente Andiamo avanti Perché Abbiamo la L'Aretusa Non so come si pronuncia Quindi leggo come si è scritto Abbiamo cannoni Da Perché qua ovviamente Voi non è che vanno a scrivere Capito Come la misura Che utilizziamo noi Comunque questo è un incrociatore Non è che sia Proprio bellissimo Non abbiamo nient'altro Fortunatamente Così Usciamo dai guai Andiamo per quanto riguarda Il ramo Aeronautica Abbiamo lo Swift Sì Un po' come la scopa Praticamente Abbiamo Una velocità massima Di 980 Km Nera 5 Abbiamo due cannoni Da 30 Mi ricorda qualcosina Andiamo poi con lo Swift F7 Il Caccia subito dopo A 8.87 Abbiamo che qui Due cannoni da 30 E una velocità Di 977 Ecco la nostra scopa Volante Continuiamo Col dire che Per quanto riguarda Gli elicotteri Sono stati aggiunti Dei rami Cioè il ramo Per essere più precisi Abbiamo l'MK1 Il Mark 1 Anteprima Già questo Sembra carino Non troppo Vediamo l'altro com'è Questo qui Un po' più No È identico Più o meno Vediamo il successivo Ecco Questo già Sembra più No Più completo Vediamo quello premium Perché ovviamente C'è anche quello premium Se qualcuno volesse Sbloccare rapidamente Il ramo Degli elicotteri Per quanto riguarda L'esercito Abbiamo Esattamente Un Niente Non abbiamo nulla Quindi andiamo avanti Il Giappone Propone Il type 75 Che abbiamo visto Dovrebbe essere Il tipo 75 Dimmi di no Perché è stata un'esperienza Eh infatti Dicevo che non era quello È stata un'esperienza Con quell'altro Davvero Una cosa traumatica Abbiamo un tempo Di ricarica Di 10 secondi Un cannone da 155 È molto interessante Però il cannone 155 Vediamo i proiettili Che possiamo portare Possiamo portare Effettivamente Un po' di tutto Anche Il mitico proiettile Fumogeno Quindi fate molta Attenzione Abbiamo gli elicotteri Sì abbiamo Il famoso elicottero Che ecco Questo vedi Questo è carino Basta dare Un po' di Di mettere Un po' Di disegni Sulla Come mimetica E i giapponesi Sono contenti Aeronautica Andiamo a vedere subito Che abbiamo Il mitico No niente Rimaniamo con il Mitsubishi T2 Che abbiamo visto Tra l'altro Un po' di giorni fa Abbiamo il type 4 E qui veramente Perdo le parole Ancora una volta Beh si è carino Dai Per fare una passeggiata Direi che è molto buono Abbiamo Il Sionan Questo caccio Sommergibili Attenzione Eccolo qui E questo già è più carino Vedi Un po' più completo Un po' più da guerra Bene così Continuiamo Con il Mogami Lo conosciamo E lo conosco Alla perfezione Questo incrociatore Abbiamo i cannoni Sicuramente Da 155 E poi I siduri Che escono Sono all'interno Praticamente Della pancia Del nostro Incrociatore Giapponese Andiamo avanti Con la Francia Lasciamo la Cina Per ultimo Perché è la nazione Che è stata Aggiunta E quindi Vorrei lasciarla Per ultima Come ciliegina Sulla torta Abbiamo Per quanto riguarda La Francia Il panther L'hanno aggiunto Premium Ovviamente Eccolo qui Vediamo Mantiene sempre Quella velocità Brutta Vero Eh no Meno 8 Ok Pensavo peggio Abbiamo gli elicotteri E' stato aggiunto Il 665 Tiger Sì Ok Va bene Come dici tu Abbiamo anche Quello premium Attenzione Perché Un Tiger Non bastava Questo invece Ha una mimetica Molto più interessante Andiamo Sto perdendo la voce Aeronautica Abbiamo esattamente Il Il nulla Più totale Non è stato Aggiunto Niente Adesso ragazzi Prendo un po' di fiato E andiamo a vedere La Cina E poi L'Italia Aprirei Finalmente Finalmente Si fa per dire Magari alcuni Lo aspettavano Veramente La parentesi Per quanto riguarda La nuova nazione Aggiunta Cina Partiamo Dalla Da dove Tanto Non abbiamo visto nulla Partiamo Da zero A questo punto Però una cosa Che Proprio così Se uno scorre Cos'è che nota Anche velocemente Cosa Cosa notate Abbiamo il La 9 Abbiamo Il MIG 9 Abbiamo il MIG 17 Abbiamo Il J6A Abbiamo poi Il J7 2 Abbiamo L'F86 Abbiamo Il P51 Abbiamo C'è quello che Vorrei dire E penso Lo abbiate capito Anche voi Perché mai Dovrei sbloccare Un ramo Che è praticamente Il risultato Di altri rami Mescolati insieme Abbiamo qui Veramente di tutto Abbiamo il Giappone Abbiamo l'America Con il P47 Abbiamo I sovietici Con il BIG 17 Abbiamo L'F84 Abbiamo Veramente Tutto Quanto Mescolato E buttato Nella Non lo so Nella pentola Per creare La nazione Cina A questo punto Avrei impiegato Le risorse E soprattutto Il tempo Per completare Altri rami Quali Per esempio Ne faccio Io faccio il nome Di una nazione A caso Quello italiano Ma è solo Una mia idea Ovviamente Per quanto riguarda L'esercito Ragazzi Siamo Punto Da capo Abbiamo L'M18 Abbiamo Gli S2 Abbiamo Il Type 63 Eccetera Eccetera Poi abbiamo La ciliegina Sulla torta Ancora una volta Il T62 Numero 545 Premium Quindi Veramente Se volete Se state Iniziando Adesso Il gioco Cioè Sbloccate Il ramo Cinese Perché così È come Sbloccare Tutti gli altri Rami Perché È praticamente La somma Di tutti Di tutte Le altre Nazioni Questa Perlomeno È la mia Analisi In breve Non ha senso Andare a vedere Tutte le unità Una per una Perché Uno Perdiamo Tempo E due Sono unità Che Fondamentalmente Abbiamo Già Visto Poi Ovviamente Non so Le specifiche Tecniche Di ogni carro E di ogni Aereo E penso Che Non intendo Scoprirlo Mai Andiamo Adesso Finalmente All'Italia Per vedere Quello Che è stato Aggiunto Nella nostra Amata Nazione Abbiamo Il La riete Che Ho già Richiesto Per portare Sul canale Abbiamo Un cannone Da 120 E una velocità Da 65 Km Orari Maggiori Dettagli Lo andremo Ve li darò Quando Lo utilizzerò Nel gameplay Abbiamo poi Il Sidam 25 Che è Armato Attenzione Con I nostri Cioè i nostri Con Il Missile Quindi abbiamo Una Un modo Per contrastare Eventuali I nemici Che richiedono L'utilizzo Del missile Una velocità Di 64 Km Orari Abbiamo Poi Due Quattro Mitra elettrici Da 25 Però ovviamente Queste armi Io Qualora Dovesse Utilizzarlo Saranno Utilizzate Per distruggere Carri armati Ma è una cosa Normale Perché il gameplay Di Davy Deve essere Sempre Differente E innovativo Abbiamo Poi All'aeronautica Attenzione Aprite bene Le orecchie In caso Fossero Ancora Chiuso Abbiamo Una Nuova Un nuovo ramo Diciamo Che si sviluppa Abbiamo Il Re 2005 Serie Zero Una Un ramo Che personalmente Mi stava piacendo Tantissimo E penso Mi piacerà Fino Alla Serie Zero Per poi Fare un balzo In avanti Da 5.0 Ci ritroviamo A 7.3 E ci ritroviamo Con il Vampire 52A Ecco Lì Secondo me Il ramo Prende Una strada Che personalmente Non mi piace Per nulla Abbiamo Armato Tra l'altro Con 4 cannoni Da 20 Poi abbiamo Il CL13 Eccolo qui 1097 La velocità Massima Abbiamo Le solite Mitra Aitrici Da 12.7 Per 6 1800 colpi Diventano anche Come dire Noiose Da ripetere E poi come ultima Come ultimo caccio È stato messo L'F86 Che comunque Rimane A 9.0 Rispetto Al G91 A 9.7 L'F86 Anche qui Propone No bugia Non propone nulla Perché abbiamo I 4 cannoni Da 20 Stavo per dire Le mitraillettrici 12.6 Invece Ero in errore 528 Per quanto riguarda I colpi A disposizione Abbiamo poi Armi secondarie I missili Due missili Che possono essere Utilizzati Ragazzi Questo era il video Per quanto riguarda L'aggiornamento La 1.91 Come ho detto All'inizio E se non l'ho detto Lo dico ora O comunque sia Lo ripeto Non entro E non sono entrato Nel dettaglio Di ogni singola cosa Aggiunta Nella 1.91 Altrimenti Il video sarebbe Durato fino a domani Mattina Invece Come tempistiche Penso che ci siamo E il video Diciamo Non è risultato Pesante Per quanto riguarda La visione notturna Penso di fare un video Dove la vado a mostrare Quindi faccio solo un video E vi faccio vedere Questa nuova funzione Che è stata aggiunta Su War Thunder Per avere Un quadro Chiaro Di come funziona E di come si vede Soprattutto Ragazzi Come detto Il video è terminato Lo dico ora Io come sempre Vi ringrazio Per i like I commenti E le visualizzazioni E noi Ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao